Buonasera, bentornati ad Antropos, che questa sera dedichiamo al tema di quelle che venivano chiamate le circoscrizioni, cioè parleremo della riforma del loro decentramento, un accorpamento che prevede, stiamo parlando del territorio soprattutto di Torino, un accorpamento che prevede il passaggio da 10 a 6 di queste circoscrizioni. Dicevo che si chiamavano circoscrizioni perché da pochi giorni il termine cambierà anche simbolicamente rispetto ad una modifica che stanno subendo in questo momento come assetto e si chiameranno municipalità. Allora, dicevamo che la proposta prevede una semplificazione che dovrebbe garantire soprattutto la semplificazione amministrativa. Ovviamente come potete immaginare ogni cambiamento di questo tipo apre un dibattito, soprattutto diciamo riguardo a quelli che potrebbero essere i nuovi disegni, i nuovi confini di un territorio magari diciamo elettorale, quindi l'assetto nuovo di un territorio decisamente tutto intero. Allora, una patuglia di consiglieri di quartiere boccia questa proposta, quindi insomma si sta discutendo un pochino. C'è chi parla di tempi, cioè che ci siano tre mesi di tempo per parlare e chi invece dice che c'è più tempo. Il sindaco dà il suo via libera a questo progetto. Allora cerchiamo questa sera con i nostri ospiti di capire su che cosa si sta lavorando e rispetto a quale obiettivo. Allora io voglio salutare e ringraziare gli ospiti che si trovano qui questa sera. Voglio salutare Mario Levi che è presidente della circoscrizione 8, nonché coordinatore dei presidenti di circoscrizione. Buonasera, ben arrivato. Buonasera a tutti. Insieme a lui voglio salutare e ringraziare Guido Alunno, consigliere comunale del PD. Buonasera. Allora abbiamo qua due rappresentanti del progetto di cambiamento di cui stavamo parlando e soprattutto due posizioni diverse rispetto a questo progetto, che hanno aperto una discussione riguardo a questo progetto. Allora Guido Alunno, riprendiamo da questa frase di Giorgio. Le chiameremo municipalità e partiamo per sentire appunto la proposta di questo progetto che spiegava, insomma, è stato presentato dalla commissione. Parliamo dei contenuti, parliamo degli obiettivi di questo progetto. L'obiettivo era, partendo dal presupposto che il decentramento a Torino oggi non funziona più, non funziona più perché quegli strumenti che ci eravamo dati oltre 20 anni fa, negli anni 80, non sono più adeguati. Che erano quali? Erano queste circoscrizioni con questi poteri. Allora si immaginavano enti molto più di partecipazione e un po' anche di gestione. In realtà l'esperimento di renderli enti di gestione non è riuscito e gran parte di quello che era scritto sui documenti di allora non è poi stato attuato in questi anni. Nel senso che avevano delle competenze? Avevano delle competenze che sono rimaste scritte nei documenti ma non sono state poi di fatto decentrate dagli assessorati cittadini alle circoscrizioni. Molti sono gli esempi, le biblioteche sono il caso più eclatante, ma ce ne sono tante anche sulle manutenzioni. I processi reali di decentramento sono stati pochi e lunghi. Ci hanno messo anche molte materie, sono arrivate negli ultimi anni. I mercati, la promozione commerciale è arrivata poi nella fine anni 90, le vere manutenzioni ordinarie. sono arrivate tutte poi negli ultimi anni. Il dato però è che oggi diciamo che oltre a quello c'è anche una forte contrazione delle risorse che la città di Torino nel suo complesso ha subito e subiscono proporzionalmente in maniera molto pesante anche le circoscrizioni. Allora pare che ci sia una lenta agonia a cui stiamo costringendo questi enti che non è che non hanno più una loro funzione, ma di fatto forse non giustificano più la loro esistenza così massiccia e così forte. Allora il ragionamento politico che è stato fatto è riduciamo nel numero, riduciamo i costi della politica, in cambio però diamogli una funzione vera. e proviamo a ragionare sulla possibilità di dargli una funzione sia in termini di gestione, di poteri reali da gestire per portare risposte vere e adeguate ai territori e ai cittadini che li abitano, da una parte e dall'altra immaginiamo delle forme che ci permettono di ripensare modelli di partecipazione, di vicinanza ai cittadini. Di inclusione abbiamo aggiunto alla partecipazione che era uno dei cavalli di battaglia storici con cui il decentramento era partito appunto negli anni Ottanta, anche il concetto di sussidiarietà, cioè un'idea di partecipazione dove i cittadini concorrono con l'ente pubblico a progettare le modalità per dare risposta ai bisogni che essi stessi esprimono. Cioè le comunità che partecipano anche ad avere risposta. Dovrebbe essere stato, immagino, lo spirito con cui sono nate le circoscrizioni appunto tanti anni fa. Perché questa cosa non ha funzionato? Questa cosa non ha funzionato intanto perché è cambiato il mondo. Cioè le circoscrizioni erano nate sulla spinta dei comitati spontanei, cioè dei cittadini che nelle periferie non avevano i servizi e pretendevano che il centro glieli realizzasse e che loro potessero essere presenti per controllare. Essere parte attiva rispetto a questi processi. Ma più che altro chiedevano che i servizi arrivassero nelle periferie. In quegli anni i servizi sono arrivati nelle periferie. E piano piano è cambiato il mondo. È arrivata l'era dell'individualismo imperante. E oggi se noi andiamo a una qualunque assemblea o commissione delle circoscrizioni è difficile che ci siano le grandi folle che vengono a partecipare a una riflessione teorica o generica. Riusciamo a vedere la partecipazione dove c'è un problema molto concreto, molto sentito, molto localizzato. Si vuole fare un'opera in una certa zona e il fronte del no soprattutto si attiva per essere presente a dire che non la vuole. Però è una partecipazione sempre contro. Sempre contro. Distruttiva piuttosto che costruttiva. È più difficile oggi immaginare forme che ci permettono invece di ricostruire un dialogo tra l'istituzione e i cittadini per renderci tutti più partecipi. La politica ha avuto qualche resistenza a delegare secondo lei? Assolutamente sì. C'è una ragione di senso. Torino non è una grande città. Non è una città enorme. Allora il fatto di contenere in un unico centro di potere le risorse ha permesso di poter gestire in modo più facile una fase molto difficile che è stata quella della chiusura della Fiat, di doversi ripensare come città nuova. C'è stata una trasformazione enorme a Torino. E poi dover pensarsi come la città che faceva le Olimpiadi e che aveva necessità di tenere sotto controllo tutto e di organizzare tutto con una capacità di decisionare diciamo forte. Poteva essere comprensibile questa cosa perché il lavoro è stato grande. Oggi io credo che proprio le esperienze di questi ultimi anni invece ci dimostrano che una Torino policentrica sarebbe più in grado di rispondere alle tante diversificate esigenze che la città esprime in zone diverse, con intensità diverse, su materie diverse. Cioè avere più persone, più gruppi, più centri di potere che possano essere attivi nel dialogo con la cittadinanza e nel tentativo di dare risposte io penso che oggi è un valore sul quale bisogna investire. Grazie. Mario Levi, allora in realtà in quota Italia dei Valori, a lei chiedo che cos'è, quali sono i punti fragili o i punti insomma un pochino più difficili di questa riforma, questo decentramento, progetto di decentramento? Vorrei fare però una premessa iniziale. Guido Alun. Siamo a completamento di quello che ha detto Guido e su quale siamo d'accordo. Innanzitutto che le circoscrizioni, così come sono organizzate oggi, non siano più la risposta che il cittadino si aspetta, sono stati per primi i presidenti di circoscrizione a farlo presente, votando un ordine del giorno che chiedeva al Consiglio Comunale di mettere mano alla riforma del decentramento. Riforma che nella sua sostanza globale è sicuramente approvata anche dai presidenti di circoscrizione. Il documento a cui lei faceva riferimento, votato da 126 per la precisione, consiglieri di circoscrizione, non è un documento di opposizione alla riforma, ma mette in luce alcune criticità che secondo noi vanno valutate. Allora, usiamo il termine, il nocciolo della questione, sta proprio nel definire che cosa significa gestire un territorio. Gestire un territorio, a mio giudizio, io lo faccio da nove anni su un territorio della circoscrizione a otto, significa conoscere il territorio. Conoscere il territorio, a nostro giudizio, significa non espanderlo troppo, perché sennò si viene a perdere da una parte la conoscenza del territorio e dall'altra parte l'interlocuzione diretta con i cittadini, anche col singolo cittadino, non solo con i gruppi di città. Si perde un po' di identità, ci si allontana troppo, tanto per essere chiari. In quest'ottica, come Presidente di circoscrizione, non avevamo dato un numero, avevamo indicato quella che poteva essere una dimensione ancora gestibile e la dimensione l'avevamo indicata più o meno in 120-130 mila abitanti, che a divisione dell'epoca faceva otto circoscrizioni. Questo era il primo punto. Il secondo punto era quello di non stravolgere troppo i confini attuali, sezionando troppo le attuali circoscrizioni che sono comunque conosciute dai cittadini e che comunque tengono conto della storicità della città. Si parla di quartieri, quindi i quartieri sono parte storica. Quindi un disegno del futuro territorio, che ripeto, il punto critico è di confronto, non usiamo il termine di scontro, ma di confronto è quello del numero. Sei, non lo nego, l'abbiamo detto anche ieri sera al sindaco in un incontro, sei è un numero che ci va stretto. Molto stretto. 8 è il nostro numero ideale. Senta, ma una domanda. Non siamo in qualche modo scevri dalla possibilità di trovare dei punti d'accordo, ma ripeto, non nella logica, ho sentito nel servizio parlare di fortino elettorale, almeno nella mia logica, non è quella di seguire un fortino elettorale, ma quello di razionalizzare un servizio, perché io sono al servizio dei cittadini, razionalizzare il servizio in modo da dare il massimo risalto all'esigenza del cittadino. Senta, allora intanto, prima di farle la domanda, forse volevo dare solo due notizie che non abbiamo dato in apertura. Allora, questo provvedimento, la modifica allo statuto della città per quanto riguarda le municipalità è un documento che è stato depositato il 23 gennaio, giusto? Tanto per dare anche dei temi. È stato votato dalla Commissione. È stato votato dalla Commissione. Il 30 gennaio è stata depositata la proposta di regolamento di decentramento, tanto per avere un'idea del... Stiamo parlando di municipalità che avrebbero un presidente, quattro assessori e nel complesso 25, tra consiglieri, presidenti, assessori e tutto quanto. Si durerebbero da sei a quattro i membri di giunta, però la giunta diventa una giunta, si dice, a valenza esterna e cioè che può deliberare. Che può deliberare. Mentre oggi qualunque atto... Autonomia. Avrebbe più autonomia e soprattutto avrebbe dei tempi molto più rato. Avrebbe una... Quindi in questo senso diventerebbe un... Liberazione di percorsi amministrativi oggi lunghi e pesanti. Tutto deve passare in Commissione e poi deve passare in Consiglio, con organizzazioni e poi anche in Consiglio Comunale. Con tempi lunghi e anche a un aggravio di costi, burocratici ma anche costi propri. Sì, non dimenticando che a monte di tutto c'è anche la volontà di abbattere dei costi. Assolutamente sì, infatti la proposta di ridurre da 10 a 6 si porta dietro a meno 100 consiglieri, che ha un valore anche con l'anno. Meno 100 consiglieri. Noi siamo a meno 75, quindi vedi che non siamo tanto distanti. Allora, e poi anche per capire quest'altro passaggio, stiamo parlando, quando abbiamo detto passaggio da 10 a 8, se non sbaglio correggetemi, vorrebbe dire che ci sarebbe l'accorparamento tra Centro e San Salvario e tra Lingotto e Mirafiori. Questa è un'ipotesi. È un'ipotesi. che tiene conto di un presupposto, cioè quello di creare il minor sconvolgimento possibile all'interno delle macchine amministrative, di mantenere il più possibile l'identità storica dei quartieri. Ma se invece si passasse a 6, quali sono le altre circostazioni? Ah, si ridisegna tutto. Si ridisegna tutto. Quindi è una cosa ancora da definire? No, 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 nel documento presentato c'è un'ipotesi di suddivisione che di fatto costruisce un grande centro, aggrega, diciamo, a nord e a sud del centro attuale, San Donato, Campidoglio e Cenisia-Citturin della parte nord, quindi un pezzo dell'attuale 4 e un pezzo dell'attuale 3, e sotto aggregherebbe il quartiere Vanchiglia, che è attualmente della circostazione 7. Gli altri quartieri, le altre circostruzioni, anzi, municipalità oramai, sarebbero costruite intorno a questa struttura. Ho capito. Allora, tornando a quello che diceva Mario Levi, lei diceva, allora, è importante, e sicuramente chi ha sempre lavorato con il territorio lo sa, quindi parla ragion veduta, però lei diceva, è molto importante non estendere troppo i confini di municipalità, perché immagino che si perda l'identità di appartenenza al quartiere, perché è più difficile controllare proprio le necessità del territorio. Però è pur vero che in questo momento tutto il mondo, ma anche la città di Torino, sta lavorando per un profilo sempre più internazionale, dove il concetto di confine forse è un po' rivisto. Cioè, lo stesso passaggio della città in città metropolitana, in qualche modo cambia psicologicamente e geograficamente i confini del territorio. Resterei un attimo in imbarazzo sul discorso della città metropolitana, perché è un ente che onestamente, è in nascita ovviamente, ma è ancora difficile da capire. Voglio capire se un cittadino di Villarbasse ha ancora capito. Però il mondo sta andando da un'altra parte. Però è diverso rispetto alla città di Torino. Intanto municipalità o non municipalità non avranno i poteri di un comune, o che non avranno i poteri che ha un comune. Ed è giusto che sia così perché esiste la città di Torino, questi non sono comuni. Anche se la città metropolitana può prevedere la divisione del comune e capoluogo in più comuni con il referendum. Ma questo è un discorso a parte. No, il nostro concetto è quello di condividere il fatto che si deve ridurre il numero delle circoscrizioni. Non voglio usare il termine si baratta, ma si compensa il fatto della diminuzione del numero delle circoscrizioni con, e questo era contenuto anche nel nostro documento, con delle competenze, minor numero di competenze, ma competenze chiare ed univoche. Cioè quello che fa la municipalità non lo fanno gli assessorati centrali. L'esempio, vabbè, le faccio un esempio banale, anzi gliene faccio due esempi banali. Uno è, per esempio, la concessione di Deor. La concessione di Deor, se sono Deor temporanei, li concede la circoscrizione. Se sono Deor fissi, li concede il comune. Il cittadino viene da me a protestare perché gli è stato messo un Deor sotto casa e un Deor fisso io non ne so assolutamente niente. Allora, forse è logico che chi gestisce il territorio si occupa di tutte le cose. Secondo lo sport, lo stava definendo prima, anche se l'ha definito molto largamente, io ho dei circoli sportivi che sono dati in concessione dalla circoscrizione, perché sono circoli non a valenza cittadina. Ecco, se io voglio rinnovare una convenzione oggi, a parte fare la commissione, a parte fare la trattativa in accordo con lo sport, a parte portarla in consiglio circoscrizionale, non la posso rinnovare perché devo mandarla in assessorato che la presenta al consiglio comunale ed è il consiglio comunale che la approva. Può anche modificarla perché è nelle sue competenze. Un esempio banale. Un esempio che poi viene replicato in comune. Sto rinnovando una concessione a un circolo bocciofilo, io l'ho deliberata a febbraio del 2014, non è ancora arrivata in consiglio comunale. C'è anche di più vecchio in consiglio comunale. Però scusatemi, il passaggio che si elimina qual è? Perché comunque l'assessorato... No, in questo caso sullo sport la proposta che facciamo è che rimanga gli impianti a valenza territoriale, non lo stadio comunale. Certo, quindi stiamo parlando di... Certo, degli impianti che sono comunque la stragrande maggioranza. Ce ne sono tantissimi. Sono quelli che poi fanno il territorio. Certo, sono di competenza delle circoscrizioni. Quindi una volta che ha fatto la commissione dove ha illustrato la situazione, la Giunta fa una proposta di circoscrizione, il consiglio di circoscrizione la vota, chiuso, quella convenzione diventa operativa. Vorrei fare un altro esempio. La manutenzione del suolo. La manutenzione del suolo oggi è per la parte ordinaria, che in questo momento vuol dire solo chiudere le buche, è competenza della circoscrizione operativamente. parlando. La manutenzione straordinaria, che vuol dire rifare un pezzo di strada, è di competenza del centro. Noi chiediamo che la manutenzione ordinaria e straordinaria del suolo venga attribuita alle future municipalità, non per la totalità, ma per quelle che sono le strade di quartiere. Cioè, mi riferisco a Corso Moncagliere, parlo del mio caso, che è una strada di importanza cittadina, quella resta al centro. Via Ormea, che è quella dove ha sede la mia circoscrizione, è chiaro che è un interquartiere, quindi c'è all'interno del quartiere, lo devo decidere io. Quanto questa proposta è della... E portare avanti. Lo sa. Per mettere uno stop in una via dell'interno quartiere, quindi non cittadina, ci ho messo nove mesi e mezzo. Se posso decidere... Mi hai chiesto di mettere, perché non l'hai messo tu, l'ha messo l'assessorato. Per avere... L'ha proposto invece c'è che lo metterà direttamente. lo stop, dico per avere, lo stop, in quel punto ci ho messo nove mesi e mezzo. Del resto capisco anche che l'assessorato ha la viabilità, che deve gestire tutto... Fa più fatica. Fa più fatica a seguire quello che... Il concetto è, io se vado in centro, e prendo un ufficio, l'ufficio ha tante pratiche così, perché ha tutta la città. Se riesco a decentrare, il mio decentramento avrà tante pratiche così. Però questo vuol dire che le municipalità dovranno avere più risorse, però. Le municipalità... Infatti l'unico problema, proprio su questo esempio che calza a pennello, l'unico problema non è tanto... La materia sarà di competenza esclusiva della circoscrizione, ma non potrà usare tutte le risorse che vuole, perché il bilancio della circoscrizione fa comunque parte del bilancio cittadino. E quindi, la città avrà comunque la possibilità di, anche in corso d'anno, eventualmente arrivasse una legge dello Stato che taglia per un nuovo patto della stabilità che venga costruita. Si attingerà anche alle risorse della circoscrizione, ma il grado loro, ente, eletto, abbiano già votato un bilancio e abbiano già avviato dei lavori. Quindi si troveranno a vivere le stesse difficoltà che oggi vivono le stesse ore. No, questo è ovvio. Oggi noi avremmo bisogno di 100 per fare tutto, ne abbiamo solo 80, non è che facendo un decentramento a loro gli diamo 100. Anche loro... in proporzione alla rivenunità tutta. La necessità di dialogare comunque tra circoscrizioni e centro sarà necessaria perché bisognerà gestire insieme le risorse che sono limitate e meno di quelle che tutti vorremmo. Ma su questo non lo mette nessuno in dubbio. Per chiarezza lo dico. Ripeto, c'è un'altra cosa che non mettiamo in dubbio e che poi mi farà piacere dire anche al consigliere all'uno, a Guido, perché è stato presidente di circoscrizione e quindi conosce i nostri problemi. Quello che stavo dicendo è logico, è ovvio, nessuno si illude che facendo così e facendo nascere una municipalità ci piova l'oro addosso. Il problema è quel poco che abbiamo lo vogliamo gestire noi o lo vogliono gestire loro cioè chi ci sarà le deve gestire l'ente locale perché è l'ente locale che sa quali sono i bisogni dei propri cittadini. Che ha percezione del territorio proprio. Che ha percezione Io mi sono scritto gestire un territorio significa conoscerlo ma conoscerlo non vuol dire solo sapere che una via è lì significa sapere quali sono i problemi di quella via quali sono i problemi dei commercianti di quella via quali sono i problemi dei cittadini di quella via. Concordo con Aluno sul discorso dell'avvicinare l'istituzione ai cittadini e quindi come previsto all'interno dello statuto e del regolamento non penso sia più del regolamento che sullo statuto adesso un vuoto di memoria il fatto di avvicinare i cittadini allargando il territorio entro certi limiti ma ponendo degli uffici di quartiere che siano polifunzionali che siano il punto di riferimento per i cittadini per tutto quanto hanno bisogno anche tutto questo che sia diretto non diretto questo è contenuto ma è solo per definire il fatto che le circoscrizioni che io rappresento in questo momento poi se devo dire una cosa che penso personalmente lo specificherò che le circoscrizioni che io in questo momento rappresento non sono contro il decentramento e anche quel documento non era fatto contro era fatto perché ci sono molti punti che ci uniscono ci sono alcuni punti sui quali è licito non essere d'accordo faccio un po' di polemica allora facciamo una cosa diamo due minuti di spazio alla pubblicità poi rientriamo con la polemica di alunno pubblicità